Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video che in realtà non era in programma Oggi è giovedì, giovedì non carico video, non carico niente Volevo fare questo video perché l'altra sera è stato presentato il nuovo iPhone L'iPhone X, sarebbe l'iPhone X per il decimo anniversario degli iPhone Praticamente è il 10 anni che escono iPhone, cioè producono iPhone in continuazione Ho già visto un po' la presentazione, non l'ho vista tutta, non ho visto il video della presentazione intera Quindi ho visto dei pezzettoni di video Oggi ragazzi volevo fare una reaction, dato che non faccio mai reaction Vorrei provare a fare una reaction con voi al video dell'Apple, insomma di quello che è uscito Stanno facendo la presentazione dell'iPhone X A parer mio una figata stratosferica Non ha il tasto home sto telefono Dio mio che figata Vabbè andiamo avanti Ha pure la ricarica wireless Con il Wi-Fi si ricarica sto telefono ragazzi, con il Wi-Fi Ok Il riconoscimento facciale La tecnologia più va avanti e più costa Perché sto telefono costerà tipo mille e passa euro Va praticamente sulla luna sto telefono ormai Ok Ok Il riconoscimento facciale This makes your face your secure password So with just a look you can authenticate your phone or use Apple Pay No Che figata Puoi animare le faccine, puoi animare gli smile Si animano, si animano Spiegatemi sta cosa Mamma mia che bello sto telefono Dovrei tipo vendermi un polmone per comprarlo Però va bene, va bene così Nel futuro prossimo Quando sarà tipo vecchio di dieci anni Potrò comprarmelo Però va bene No, no, no ragazzi L'unicorno La cacca Oddio No ragazzi Cioè Qua è una figata È il top Sto telefono ragazzi È il top Che Che Ok Ok No, no ragazzi Cioè Assurdo Sto telefono è una figata È veramente Veramente una figata Cioè No, no, no Reali C'è pure La realtà Aumentata Sto delirando Scusatemi Questo era il video Della presentazione Dell'iPhone X iPhone X Come avete visto È un telefono Fighissimo Cioè Io Potrei comprarmelo Tra cent'anni Cioè Quando mi venderò Un polmone Quando venderò Tutto quello che ho Spotecarmi la casa È sempre bello sognare Sempre bello pensare Però è un telefono Che non avrò mai E poi mai Ragazzi Questo era il video reazione All'iPhone X Se vi è piaciuto Questo genere di video Ragazzi Mi raccomando Spolliciate Lasciate un commentino Qua sotto Perché Dato che è la prima volta Che faccio un video reazione Non ho mai fatto un video reazione Ne vedo molti in giro Su YouTube Italia Ma io non ne ho mai fatto uno E quindi Questo è il mio primo video reazione All'iPhone X Io vi invito a iscrivervi Qua sotto al canale A lasciare un pollicione Come vi ho già detto E noi ci vediamo Domani Domani Alle ore 14 Con un nuovissimo Video Sul canale E Pucci a tutti Ragazzi Pucci a tutti Pucci a tutti Pucci a tutti Pucci a tutti Pucci a tutti